Allora, buon vi smottare! Prima di tutto un saluto a Marco, a Renzo e Maurizio. Ciao ragazzi! Poi passiamo a noi. Titolo del giorno, ipertrofia e ormoni sessuali. Andiamo a vedere! Argomento sicuramente delicato. Allora, è un punto che ho già toccato altre volte con altri video, ma ci voglio ritornare, magari con altre spaccettature, altre problematiche inerenti, la correlazione tra i due fattori. Allora, questo è un discorso che si applica un po' a tutte le fasce di età, prevalentemente ai maschietti. Il discorso donne lo prenderei in una parte, dove posso dire, in un secondo luogo, cioè in un altro video lo tratterò in poche parole. Qua si parla proprio di una correlazione tra il testosterone, che è il formone predominante nel maschio, e l'ipertrofia. Ora, specificato che è un video apposta per i maschietti, specifichiamo anche il range di età a cui si riferisce. In realtà parte da circa i 18 anni, più o meno, fino agli 80, diciamo così. Anche se riguarda più da vicino le persone dai 40 in poi. Ma certi principi di base, poi entrerò nelle tematiche e nello specifico durante il video, certi principi di base sono applicabili a tutte le età. Partiamo da un presupposto. C'è una correlazione vera tra gli ormoni sessuali e la quantità di testosterone e l'ipertrofia. La risposta, purtroppo, mi dispiace, non è né sì né no, è ni. Poi direte, ma così non dai mai una risposta specifica e univoca. Non è vero. Ci sono dei dettagli da cui si può estrapolare una risposta specifica per ognuno di noi. E' stato provato, ad esempio, che il Tribulus, unito alla macchia e ad altri integratori, possa sviluppare sicuramente nel maschio una libido più accentuata. Non è detto che sia strettamente correlata con l'aumento di testosterone, anche se in alcune persone, dati alla mano, e parlo di miei clienti, tanto per capirci, i miei assistiti, dove hanno fatto un periodo con Tribulus, acido spartico, D3, zinco e magnesio, potassio e tutti gli integratori atti ad aumentare la libido e o il testosterone, laddove questo è avvenuto. Cioè non solo hanno avuto un aumento della libido, ma anche del testosterone. Analisi alle mani, alla mano, scusate, alle mani, alla mano, you know? Quindi l'unico modo per capirlo e per saperlo è provare. La cosa che voglio spingere tutti voi a fare è gli esami del sangue. Cazzolina, non ci vuole tanto. Soprattutto per persone dai 40 in poi, nel senso che dovrebbero avere già un lavoro, una posizione sociale, un minimo, un minimo, sufficiente da un punto di vista economico. Cioè, mi spiego, chiaro che il ragazzino di 18-20 anni magari studia, lavora, non lavora, non se lo può permettere, ma una persona un po' più lia con gli anni deve farla sta cosa una barra due volte l'anno. Se non avete patologie specifiche come è sottoscritto che ogni tre barra quattro mesi faccio gli esami del sangue completi, ma io sono un discorso a parte. Chi è sano e entra soprattutto in un range di azione d'età dai 40 in poi, un paio di volte l'anno è la cosa più indicata, fare degli esami specifici con gli ormoni sessuali di riferimento. Estradiolo, il PSA non fate l'esame della prostata perché è ingannevole e io consiglio di non farlo. Poi il vostro dottore ve lo fa fare. Ascoltate, dottore, ci mancherebbe, eh? Io un consiglio, perché se chi ha inventato l'esame del PSA, l'inventore di quell'esame dice che è stato un errore perché non pensava che poi la medicina ne avrebbe fatto l'utilizzo, che ne ha fatto, quindi andando poi a fare delle biopsie alla prostata che fanno più male, che vabbè adesso lasciamo perdere perché entriamo in un discorso diverso. Comunque, scusate stavo facendo una digressione che non andava fatta. Comunque, estradiolo, testosterone libero, testosterone totale e poi l'emacromocitometrico, cioè transaminasi, bilirubinemia, tutti gli globuli bianchi, eritrociti, tutti gli globuli rossi, tutti gli esami classici di routine, in più con gli ormoni sessuali. Ok? Ci mettiamo dentro anche la... come cacchio si chiama? Mamma mia, che l'absus, non mi viene in mente. mi viene in mente dopo. Comunque, i classici esami degli ormoni sessuali, in più all'emacromocitometrico. Fatelo questo cazzo di esami. I ragazzi giovani, non è che non lo devono fare, dovete farlo per avere un riferimento, questo l'ho già spiegato nei video. c'hai vent'anni, c'hai diciotto anni. Una volta vai e fai questo esame. Poi, stai bene, non hai problemi, la palestra, sei forte, cresci. Benissimo, non hai questo estremo bisogno di rifarlo ogni anno. No! Però, hai un riferimento. Dopo ti ritrovi, magari dieci anni dopo, che cominci ad avere dei problemi, magari un calo nelle prestazioni, un calo di libido, incertezze nell'intimità, bene, a quel punto ti rifai quell'esame. Magari sono passati dieci, quindici, vent'anni, ma cosa succede? Avrai un termine di paragone. No? Poi lui dice, chiaro che dopo dieci anni le cose cambiano. Relativamente, ci deve essere una proporzione nei cambiamenti, perché per ogni fascia d'età c'è un range d'azione del testosterone che ci deve essere nel nostro corpo. Attenzione, altro dettaglio che è specifico sul testosterone e sugli esami. Quello che conta maggiormente è il testosterone totale. Il libero lo si deve fare, ci deve essere una certa proporzione tra i due, ma è un po' meno importante perché il libero significa la biodisponibilità che è molto variabile in un grafico durante la giornata. Non dà dei riferimenti proprio specifici. Invece, il testosterone totale, quello plasmatico è quello che viene emesso dalle ghiandole supportate alla sua produzione. Ok? Quindi, mi do lo spinale e gonadi in primis. Quindi, è molto importante avere questi riferimenti. Dopodiché, una fascia d'età lo farà una tantum in questo esame. Faccia d'età superiore dai 40 in poi una barra due volte l'anno più si va avanti con l'età e meglio è farlo anche più spesso. Cioè, ad esempio, come ho detto poc'anzi, due volte l'anno. C'è rito il concetto, c'è la proporzione, c'è una connessione tra ormoni sessuali e ipertrofia? La risposta è nì. Provate, fatevi gli esami e nel momento in cui avete contemporaneamente un calo di testosterone, un calo della libido, incertezze nell'intimità e ci sono tre segnali chiari inequivocabili. Non potete sbagliare e agite di conseguenza. Prima si va da un andrologo, che è la cosa corretta da fare, si prova con un'integrazione che sarà lo stesso andrologo a proporvela. Dopodiché, se non funziona, si passerà ai farmaci Sidenafil, Tadalafil, Levitra, tutti i vari farmaci inibitori della pseudoreduttasi 5, Viagra e Cialis, tanto per capirci. Se dopo non funziona ancora, lì il problema è un pochettino più grave, perché vuol dire che non è più di ordine vascolare, ormonale, ma è di ordine psicologico e lì bisogna sentire uno psicosessuologo o psicosessuologa, che dir si voglia. Quindi, ci sono le situazioni per poter affrontare il problema. Non demoralizzatevi, non vergognatevi e ricordatevi che per qualsiasi problematica riguardo l'integrazione, non la farmacologia, quello spetta al medico, comunque, delle armi ci sono. Infatti, io mi propongo anche sotto questo aspetto, già c'è scritto anche nella descrizione, lo sapete, proprio perché ci sono degli integratori e la combinazione tra essi che aiutano molto da un punto di vista sessuale. Non solo, e qua che volevo arrivare al punto, più delle volte quando si mette a posto il lato della sessualità e della libido in generale, tramite integrazione, stile di vita, perché non basta solo l'integrazione, bisogna anche molte volte cambiare un po' lo stile di vita, se si beve, se si mangia di merda, se si fa una vita di merda, cioè, tutte queste cose di merda vanno a incidere sulle prestazioni sessuali, sulle armoni sessuali e tutto diventa di è mentale, no? Quindi è tutto un insieme di cose, ma quando si riesce a mettere a punto quella situazione, anche da un punto di vista dell'energia e la vigoria fisica riguardo all'allenamento e anche all'ipertrofia muscolare, migliora. Non sto dicendo che diventate di Mister Olimpia se ricominciate ad avere una libido accentuata o comunque avere una vita sessuale intensa, non è che diventi Mister Olimpia, capiamoci, però migliora tutto, migliora tutto e le dimostrazioni che ho avuto io in tanti anni di attività di PT sono queste. Molte volte si riesce a mettere a puntino una cosa per avere a puntino anche l'altra perché testosterone, libido, prestazioni in palestra non sembra ma molte volte sono molto ma molto correlate. Queste non sono cagate, ok? Anche la scienza a riguardo dice queste cose poi ha una visione come posso dire più dogmatica su certi aspetti ma questo accade. Ricordatevi, la miglior cosa per quello che ho imparato io è mettere insieme due cose da una parte la scienza e da una parte l'esperienza. Il tutto frullato insieme con una buona dose di intelligenza e di capacità dialettica si può arrivare a fare delle buone cose per i propri clienti perché solo la scienza senza l'esperienza ricordatevi la famosa bilancia che ho già portato in altri video non vanno perfettamente d'accordo come è vero che l'esperienza da sola senza una base scientifica non va neanche bene stessa roba non sto facendo il figo non sto dicendo arrivo io c'ho tutte e due sicuramente sono una di quelle persone che ha attinto da tutti e due i lati senza fare il figo non è che devo andare a pubblicizzarmi e fare il figo questi sono i fatti poi ognuno decida come crede detto questo se avete dei problemi da un punto di vista sessuale degli ormoni sessuali probabilmente molto probabilmente 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 si riflettono anche sul discorso della cosiddetta vigoria della palestra vigoria fisica in riferimento agli esercizi e alla vita da virgolette palestrato capito cosa voglio dire mettete a posto l'uno e si metterà a posto l'altro mettete a posto l'altro e probabilmente si metterà a posto anche l'uno il problema che l'altro la palestra da sola per metterla a posto difficilmente non passi dall'altro lato sono due cose che si compensano ma che è meglio partire da una per arrivare all'altra quando c'è quel problema ovviamente per i giovani perché non è che adesso uno perché c'ha 40 anni 50 60 anni quindi deve per forza avere problemi di ordine sessuale non è detto sto parlando per chi ha queste problematiche per chi sente che c'è qualcosa che non funziona più bene come prima che possono essere dell'avvisaglio non è che per forza deve essere una catastrofe immediata no mi sono spiegato you know chiudo perché il minutaggio è elevato you know you know you know bye